Un uomo è stato fermato dalla polizia stradale del distaccamento di Sant'Agata di Militello nel tratto autostradale tra Messina e Brolo, dopo che la sua autovettura era stata rottata a procedere in maniera anomala e pericolosa, specie all'interno delle gallerie con doppio senso di circolazione. Il conducente, infatti, guidava spostandosi pericolosamente tra la sua corsia e quella riservata al senso opposto di circolazione, creando non pochi pericoli rispetto ai veicoli che arrivavano in senso contrario. In considerazione della pericolosità della situazione, la pattuglia, attuando le procedure di sicurezza del caso in safety car, è riuscita a far accostare il veicolo in una piazzola di sosta per sottoporre il conducente all'alcol test. Si è così scoperto che l'autista, un quarantenne, aveva un livello altissimo di alcol nel corpo, pari a 2,74 grammi per litro. L'autovettura è stata sequestrata, la patente è ritirata per essere sospesa, il conducente è stato indagato per guida e stato di ebbrezza alcolica, rischia un'ammenda da 2.000 a 9.000 euro, l'arresto da 8 a 16 mesi, la sospensione della patente sino a tre anni, la confisca del mezzo e la decurtazione di 10 punti.